Sta per iniziare la ventesima edizione del Festival Africano d'Asia d'America Latina, come sarà il suo lavoro di giurato? Prima di tutto io sono appassionaria di cinema, purtroppo non ho abbastanza tempo, adesso sono costretta di vedere nove film, sono felice, spero in tre giorni di fare questo lavoro. Io credo che è bellissimo che Milano si sveglia un po' contro questo brutto momento di razzismo nel sud Italia particolarmente e spero anche i giovani si svegliano un po' e vedono film che sono ricchi di realità, una realtà del terzo mondo veramente serio e anche capiscono che non c'è solamente, come si chiama questa cosa dell'intervisione, il fratello, come si chiama? Il grande fratello, c'è un altro mondo del grande fratello, un mondo crudele, un mondo veramente di milioni di problemi e per questo svegliare la conscienza dei giovani, di non vedere solamente film finti, questi sono film veri, una vera, triste, dolorosa realtà. C'è anche una sezione Razzismo Brutta Storia che viene realizzata grazie anche all'aiuto di Feltrinelli, che film vedremo e quanto anche la letteratura può fare per combattere il razzismo? La letteratura, noi già da 1962 abbiamo fatto uno dei primi libri importanti del premio Nobel a mia amica Nadine Gordema di Africa, noi siamo in questo credo, dopo abbiamo fatto anche i primi libri di Doris Lessing, nata nell'ex-Rodesia, noi siamo stato sempre, abbiamo fatto nel primo paese europeo la biografia, autobiografia di Nelson Mandela, noi siamo come candidatrice sempre appassionatamente interessati ai problemi del terzo mondo, e il cinema è la stessa cosa. Grazie.